Ciao a tutti diavoletti, lasciate un mi piace! Lasciato! Adesso commentate con la parola sprunchi! 3, 2, 1... Avete commentato con la parola sprunchi? Perché oggi noi... Sì, oggi noi faremo una sfida con... Gli sprunchi! Esatto, guardate, io sono lo sprunchi rosso! Sì, e io sono... Lo sprunchi grigio, guardate! La mia felpa è grigia e guardate, qui c'è lo sprunchi grigio! Wow! Vinci, ma oggi noi vogliamo evocare gli sprunchi nella vita reale! Proprio così! Gli sprunchi! Wow, nella vita reale! Vinci, ma sai che gli sprunchi potrebbero essere anche horror? Ah, lo so, ma non importa perché io voglio vedere gli sprunchi nella vita reale! Uh, quindi diavoletti restate con noi se volete vedere tutti gli sprunchi nella vita reale! Sprunchi, sprunchi, sprunchi! Vinci? Ma hai messo tu queste scatole qui? No, non le ho messe io! Cosa ci fanno qui? Sono misteriose! Sì, sono due scatole misteriose di sprunchi! Aiuto! Vinci, dobbiamo leggere, avvicinati! Cosa dice qui? Vinci, ci sono dei fogli molto strani! Sprunchi, sprunchi, sprunchi! Sembrano dei fogli molto strani e spaventosi, Anto, non credi? Dobbiamo leggere, dobbiamo leggere! Adesso! Ok, leggiamo! Ciao, Anto e Vinci! Ciao, sprunchi! Ciao, sprunchi! Ma qui sembrano essere molto spaventosi! Ah! Oggi dovete evocare gli sprunchi nella vita reale? Sì, sì! Woo! Vogliamo vedere gli sprunchi nella vita reale! Dai, avvicinati! Dai, dai! Quindi, cosa dobbiamo fare? Oh! Oh! Aprite le scatole del vostro sprunchi! Ah-ah! E completate tutte le sfide! Ah-ah! Guarda, Anto, perché questa è la scatola dello sprunchi rosso! Sì, del tuo colore rosso! E l'altra è la scatola dello sprunchi grigio! Il tuo colore! Oh! Sì, guarda! Sì, diavoletti, questo è il mio colore! Lo sprunchi grigio! Quindi noi dobbiamo aprire le scatole dei nostri sprunchi! E completare tutte le sfide! In questo modo evocheremo tutti gli sprunchi? Sì, vedremo gli sprunchi nella vita reale! Woo! Non vedo l'ora! Ok, ok, diavoletti! Noi dobbiamo aprire le scatole misteriose! E restate con noi perché dovete aiutarci a completare tutte le sfide! E gli sprunchi appariranno nella vita reale! Ok, quindi dobbiamo aprire le scatole degli sprunchi! Inizio io aprendo la scatola dello sprunchi rosso! Ok, diavoletti! Vinci ha il colore rosso! Quindi aprirà la scatola misteriosa fra tre, due, uno... Ok! Diavoletti, ci sono dei fogli? Prendiamoli! Vai Vinci, vai, prendili! Cosa? Prima sfida... Trovare il quaderno degli sprunchi segreti? Vinci! Devi trovare il quaderno degli sprunchi segreti! E dov'è? Dove troverò mai il quaderno degli sprunchi segreti? Sembra essere molto raro! Oh, Vinci, il tuo sprunchi è rosso! Quindi sicuramente il quaderno è rosso! Lo so, ma dov'è? Non lo vedo! Oh, Vinci, dobbiamo cercare dappertutto! Ok, cerchiamo il quaderno degli sprunchi segreti! Oh, diavoletti, guardate! Qui c'è il cestino della spazzatura! No, non c'è niente nel cestino! Hai trovato qualcosa? Aha! Qui, nella cuccia del nostro cagnolino, guardate! Sembra esserci il quaderno degli sprunchi! Diavoletti, nella cuccia del nostro cagnolino c'è qualcosa di rosso! Vinci, rosso! Come lo sprunchi rosso! Quindi questo è il quaderno degli sprunchi segreti? Ok, Vinci, apriamolo! Apriamolo! Oh, diavoletti! Stiamo per aprire il quaderno degli sprunchi segreti! Ci saranno degli sprunchi super rari? Oh, Vinci, è un quaderno! Dai, apriamolo! Guarda, ha tantissimi colori! Ok, questo quaderno sembra essere molto spaventoso! Sì, guardate, qui c'è uno sprunchi! Apriamolo! Ok, state per scoprire... Gli sprunchi segreti! Guardate, questo è verde! Ha dei fiori ed è super carino! Che bello! Ok, dai! Poi, abbiamo altri sprunchi! Diavoletti, questo è viola! Ha delle ali e fa molta paura! Sì, diavoletti, stiamo per scoprire tantissimi sprunchi segreti! Dai, restate con noi! Questo sprunchi è magnifico! Ok, continuiamo a girare pagina? Passiamo al prossimo! Questo è arancione! Ed è super carino! Vinci, dai, continuiamo a girare pagina! Dai, dai! Diavoletti! Guardate, questo è un altro sprunchi segreto! Wow, questo sì che sembra essere molto spaventoso! Guardate i suoi occhi! Sì! Chiudiamo questo quaderno! E adesso? Il quaderno è molto misterioso, avete sentito? Ok, vieni Vinci, vieni! Adesso devo aprire la scatola grigia! Come il mio sprunchi! Dai, Anto! Chissà cosa c'è nella tua scatola grigia! Ok, apriamo! Vinci, ci sono dei foghi! Ci sono dei foghi! Cosa dicono? Devo prenderli, devo prenderli! Dai! Prima sfida, trovare il cibo grigio e mangiarlo! Cosa? L'ho trovato! Diavoletti, io ho visto un cibo grigio sul nostro letto! Sul serio? Sì, e alla fine evocheremo gli sprunchi di sicuro! Di certo, non vedo l'ora, diavoletti, restate con noi! Ma adesso dov'è il cibo grigio? È qui, è qui! Eh sì, qui c'è una busta con delle caramelle tutte grigie! E sono molto strane perché, guardate, non sappiamo di che sapore sono! Dai, le provo! Sono tutte grigie come il mio sprunchi! Ah ah, dai, Anto, completa la prima sfida, mangiale! Sono misteriose? Sono misteriose! Ho mangiato tutte le caramelle grigie, sì! Ottimo lavoro! Vinci, ma adesso qual è la seconda sfida? Non lo so, dobbiamo controllare! Aiuto! Aiuto! Queste scatole sono molto misteriose! Sono scatole di sprunchi! Ma che belle! Ma adesso controlliamo la seconda sfida della scatola rossa, cioè la mia, del mio sprunchi! Sì, diavoletti, perché lo sprunchi di Vinci è rosso! Oh, Vinci, dai, dai! Dai? Eh? Ah, ok! Cosa? Cosa? Seconda sfida! Trovare l'oggetto rosso preferito degli sprunchi! Vinci? Ma guarda! Qui il tuo sprunchi è spaventoso! Sì, è molto spaventoso, guardate! Ok, qual è l'oggetto rosso preferito degli sprunchi? Vinci, dobbiamo cercarlo! Dai, cerca! Oh, ma non lo so! C'è qualcosa qui appeso! Prendiamolo, sembra essere tutto rosso! Ah! Wow, Vinci, questo è l'oggetto rosso! È l'oggetto rosso preferito degli sprunchi e guardate i suoi occhi! Ah, 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 si allunga e guardate cosa fa con gli occhi! Wow, guardate! Oh? Li muove da solo! Questo sì che è un oggetto molto raro! Ed è ansioso! Che bello! Ah, 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 ah! Basta, basta! Ok, sicuramente ci sarà la seconda sfida! Che ansia! E se vedessimo uno sprunchi horror nella vita reale alla fine? Che spavento, a questo non ci ho pensato! Dai, dai! Cosa? Seconda sfida! Trovare l'oggetto grigio degli sprunchi? Ok, l'oggetto grigio dove sarà mai? Diavoletti, guardate qui il mio sprunchi è horror! Oh! Che ansia, che ansia! Oh, Vinci sta cercando e adesso anch'io sto cercando! Il mio sprunchi è tutto grigio! Guardate, qui c'è uno sprunchi grigio! Ok, ok, dobbiamo cercare... Vedo delle orecchie lì! Cosa? Ho trovato un oggetto grigio! È un peluche tutto grigio! Oh, diavoletti, avete sentito? Questo coniglio tutto grigio... Fa un verso da solo! Oh! Ok, Vinci, basta! Ecco perché è l'oggetto degli sprunchi! Perché parla? Beh, tutti gli oggetti degli sprunchi sono spaventosi! Ok, ma adesso tocca a me! Devo controllare cosa c'è nella scatola del mio sprunchi rosso! Vai, Vinci, vai! Leggi, leggi! Terza sfida... Trovare il cibo rosso e mangiarlo? Devi trovare il cibo rosso? Vinci, sulla tavola! Cosa? Sì, vai, Vinci, vai! Vinci? Dai, controlla cosa c'è! È una caramella gigante rossa? Sì, è una caramella gigante tutta rossa! Che buona! Oh? Cosa? Oh? Oh? No! 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 Ok, mentre Vinci sta mangiando la caramella rossa dello sprunchi rosso, io devo dirvi una cosa! Ho molta paura! Eh sì, perché manca l'ultima sfida! L'ultima! Del mio sprunchi grigio! E vedremo tutti gli sprunchi nella vita reale! E se ci fossero gli sprunchi qui? Che ansia, che ansia! Potrebbero essere degli sprunchi horror! Dai, Vinci! Adesso manca l'ultima sfida! E si trova nella tua scatola grigia? No! Vinci? Guarda! Cosa? Nella scatola c'è l'ultima sfida! Prendila! Terza sfida! Rispondere alla chiamata dello sprunchi grigio? La chiamata? Che? Ok, diavoletti, diavoletti! Ok, sì, 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 sì! Appena lo sprunchi grigio ci chiama, noi dobbiamo rispondere! Ha iniziato a chiamarmi! È la chiamata da parte dello sprunchi! Lo sprunchi grigio! Eh? Sentite? Ok, devo rispondere! Diavoletti, la sfida è rispondere! Dai, dai! Dic- Avete sentito? Non ci posso credere! Avete sentito il suo verso horror? Oh no, cosa abbiamo combinato? Vinci! Abbiamo completato tutte le sfide! Gli sprunchi verranno qui! Ok, gli sprunchi sono qui! Avete sentito? Guardate, nel corridoio ci sono tre sprunchi horror! Cosa? Vinci? Aiuto, guarda! Oh no, li senti versi? Sembrano essere spaventosi! Aiuto, sono tre sprunchi horror! Sono nella vita reale! Oh, diavoletti, aiuto! Gli sprunchi sono qui! Iscrivetevi!